...dare una spiegazione ai fatti della nostra provincia. Degna è l'obiettività almeno nel senso di mancanza, di animosità e di spirito di parte. La disponibilità nell'esame dei fatti, per quanto si possa riscontrare, la testimonianza all'ascolto e la testimonianza giusta non compiacente. La dignità della risposta non fa problema per chi è degno. Se mai si può derivare a un problema di fare testimonianza, ma questo non turba chi è degno. Si dice la storia siamo noi. Una vicenda dolorosa che ha fatto e fa dolere la provincia non si riconduce ai cittadini. Si riconduce a quelle mani dettrentrici del potere che hanno sforato, come da un forno provido di varie connivenze, con i vari personaggi incriminati enormi. Queste non le ha sfornate il popolo, le ha sfornate chi il popolo non è.